vogliamo pregare maria per è l'invito che il sussidio dell'avvento oggi ci invita a mettere in pratica siamo nella chiesa di santa maria della misericordia il santuario di castelleone per prepararci a vivere in pienezza la festa dell'immacolata concezione di maria una festa nel cuore dell'avvento l'avvento è il tempo dell'attesa il tempo nel quale siamo invitati a coltivare in noi il senso di una presenza quella di dio nel mistero della nostra vita e nel mistero della gloria che ci attende maria ci è presentata come il modello per eccellenza della creatura che attende il signore della creatura disponibile a fare spazio in lei al disegno misterioso di dio anche noi siamo chiamati a vivere questa esperienza il tempo dell'avvento ci invita proprio anche per noi a vivere il senso dell'attesa il senso di un incontro straordinario che il signore prevede perché la nostra piccola storia entri nella sua grande storia di salvezza vogliamo pregare allora maria proprio per questo perché ci renda consapevoli come lei di corrispondere a un disegno d'amore del signore ci aiuti a comprendere che la nostra piccola storia è inserita nella grande storia che dio vuole costruire per tutti che si chiama storia della salvezza maria è l'esempio del silenzio della contemplazione di colei che nella sua vita sa cogliere il senso della presenza di dio la preghiamo proprio per questo perché in questo tempo di avvento sappiamo anche noi vivere lo stesso atteggiamento e anche noi vivere lo stesso atteggiamento